Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Dopo un periodo di silenzio sui social, Perla Vatiero ha fatto il suo commovente ritorno, condividendo con i suoi seguaci un momento personale molto delicato. L'ex concorrente del Grande Fratello ha recentemente perso una persona molto cara, la sua amata zia. In un video carico di emozione, Perla ha salutato i suoi fan. Ciao ragazzi, buongiorno, sono tornata. Come molti di voi sapranno, ho attraversato un periodo davvero difficile. La scomparsa di mia zia mi ha colpito profondamente e ho dovuto prendere una pausa per stare con la mia famiglia a Milano. Nonostante il dolore, Perla ha voluto ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. Grazie di cuore per tutti i messaggi di affetto, la vostra presenza costante mi ha dato forza in questi giorni bui. Anche se non ero attiva, leggevo ogni vostro pensiero e questo mi ha aiutato più di quanto immaginate. Prima di concludere il suo messaggio, Perla ha condiviso i suoi piani immediati, ora sto per tornare a Milano. Mi fermerò giusto un paio di giorni per alcuni impegni lavorativi, poi continuerò a condividere con voi il mio quotidiano. La giornata si è conclusa con una storia di Perla in palestra, dedicando il suo allenamento al suo personal trainer, che la incoraggia nonostante le difficoltà. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.